Non c'è peccato in cui siamo caduti, da cui con la grazia di Dio non possiamo risorgere. Non c'è individuo irrecuperabile, perché Dio non smette mai di volere il nostro bene, anche quando pecchiamo. È un messaggio pieno di speranza quello che si promana oggi dal Vangelo, e Papa Francesco ha voluto metterlo a fuoco prima dell'Angelus. Parlando dal Palazzo Apostolico ai fedeli radunati in piazza San Pietro, il Pontefice ha commentato tre parabole. Nella prima Dio è presentato come un pastore che lascia le 99 pecore per andare a cercare quella perduta, nella seconda una donna che ha perso una moneta e la cerca finché non la trova, nella terza è immaginato come un padre che accoglie il figlio che si era allontanato. Dio aspetta sempre il nostro rimetterci in viaggio, ci attende con pazienza, ci vede quando ancora siamo lontani, ci corre incontro, ci abbraccia, ci bacia, ci perdona. Così è Dio, così è il nostro padre. E il suo perdono cancella il passato e ci rigenera nell'amore. dimentica il passato. E questa è la debolezza di Dio. Quando ci abbraccia e ci perdona, perde la memoria, non ha memoria. Quando noi, pecatori, ci convertiamo e ci facciamo ritrovare da Dio, non ci attendono rimproveri e durezze, perché Dio salva, riaccoglie a casa con gioia e fa festa. Dopo la preghiera a Mariana, il Pontefice ha salutato con gioia la beatificazione oggi in Kazachistana di Ladislao Bukowinski, sacerdote e parroco perseguitato per la sua fede. Nella sua vita ha precisato, ha dimostrato sempre grande amore ai più deboli e bisognosi e la sua testimonianza appare come un condensato delle opere di misericordia spirituali e corporali.